Domani si apre la ventiquattresima giornata per il campionato di eccellenze per quello di promozione. Se nella massima serie regionale i match in programma sono tre, in quello di promozione ne sono ben cinque. Andiamo a vederli nel dettaglio. Il Campo di Pietra ospiterà il Castel di Sangro. Due squadre con due obiettivi diversi. Il Campo di Pietra al quarto posto in graduatoria è in lotta per rimanere nei primi posti della classifica e ad oggi poche le squadre che sono riuscite a mettere K.O. ai ragazzi di misercordone. Tra l'altro nessuno è riuscito a conquistare l'intera posta in palio tra le muri amiche e dei rosso-blu. Per quanto riguarda i giallorossi, sono terzultimi e sognano di uscire dalla zona play-out per cui non sono permessi passi falsi. Ad arbitrare Aurisano di Campobasso. Spostiamoci a Lancellotta dove l'Isernia ospiterà il Campobasso 19-19. I biancocelesti hanno anticipato domani il match per via dell'impegno di mercoledì in Sardegna per l'andata dei quarti di Coppa Italia, con ritorno invece fissato mercoledì 6 aprile a Lancellotta contro l'Ossise. L'Isernia in questa stagione sta dando il massimo per occupare i primi posti in classifica e allungare la serie positiva conquistata fino ad oggi, con la conquista dello scorso turno a discapito del Campo di Pietra, accorciando le distanze con la Vetta che dista solo 6 punti. Fronteggeranno una squadra che al contrario come obiettivo la salvezza e con 19 punti in classifica deve lottare per uscire dalla zona play-out. Fischio di inizio segnato a Scarati di Termoli. Ultimo match in programma a Venafro al Tilia Samnium, al Marchese del Prete e Bianconeris la vedranno con l'ultima in classifica, squadra che nelle ultime due partite non ha palesato delle difficoltà nel completare la stagione. Ad arbitrare Ferrara di Sernia. Scendiamo di una categoria e passiamo al campionato di promozione. Area di big match al campo di Castello Matese dove la Virtus Gioiese scenderà in campo contro la Turris. Due squadre che vogliono entrambe vincere sarà al passo della capolista Campomarino che ha messo a cappa o sia il club di Santa Corroce di Magliano lo scorso weekend che la squadra di Piedemonte due sabati fa. Le due squadre sono separate da un punto di differenza, ma per la Turris continua il sogno chiamato eccellenza e non accetterà di portare a casa un bottino mezzo pieno. I padroni di casa dovranno fare a meno di Attilio Altomare, squalificato per tre turni. Ad arbitrare De Lucia e Di Sernia. Passiamo alla capolista Campomarino che ospiterà la Juveness. Gli adriatici ad oggi hanno centrato appieno gli obiettivi che si erano prefissati e vogliono proseguire la serie positiva realizzata fino ad oggi. Dall'inizio della stagione hanno avuto solo due battute d'arresto. Sarà dura perciò per la squadra di Mister Nunziata che a quindultimo posto stringe i denti per uscire dalla zona play-out e salvarsi. Ad arbitrare Roca di Viterbo. Terzo match d'ho anche Sagnone e Petacciato. Al Civitelli arriva un'altra dura prova per la formazione Granata che all'ultimo posto in classifica non può permettersi di sbagliare ancora. Questa volta tocca al Petacciato che è reduce da un'ultima vittoria contro lo Spinete che ha consolidato il piazzamento play-off. Fischietto a Ferrara di Campobasso. Trivento-Termoli 2016 all'Acqua Santiani. Giallo-Blu scenderanno in campo contro la squadra di Mister Lallopizzi che darà loro filo da torcere. Entrambe le compagini vogliono allungare la serie positiva che dura da sei giornate che hanno fruttato 16 punti per gli Adriatici mentre da sette giornate per il Trivento di Mister Viglione con 17 punti aggiungi in classifica. Ad arbitrare Izzo di Sernia. Ultimo match in programma Baranello e Sernia Fraterna. a pari punti e con lo stesso obiettivo la salvezza. Per i ragazzi di Mister Dichiro questi 90 minuti precederanno due trasferte consecutive. Zurlino della sezione di Termoli darà il fischio di inizio alle ore 17 mentre sugli altri campi si giocherà alle 15. Il Baranello dovrà fare a meno di Antonello Niro squalificato per una gara mentre la esernia di Christian Staffieri.